L'altro giorno vedevo, sapete che su Rai3 fanno quel programma tipo Blob, dove gli illusi li chiamavano, non so com'era questa cosa, e facevano vedere, sapete che c'è stata lì a The Voice, il programma La Carra, Piero Peluche, e c'era Patti Smenti che cantava quel pezzo, il pezzo Because the Night, che gliel'ha scritto Bruce Springsteen il pezzo ragazzi, e c'era Piero Peluche che cantavano tutti assieme, una cosa pietosa ragazzi, è allucinante proprio, mi sembra di tornare indietro i 50 anni, avete visto l'articolo di Noemi, c'è un articolo di Noemi, quello con i capelli rossi che gli ha pisciato in testa il piccione di Povia lì con la diarrea, ha detto che sei stufata di stare in Italia, vuole andare a vivere a Londra perché in Italia la musica, ma te ne sei accorta adesso? E poi proprio tu per soldi sei andata a fare un programma di merda a prendere per il culo dei ragazzi, e li prendi per il culo tutte le volte, perché lo sai benissimo che in questo paese la musica non esiste, almeno quella musica, quella vera non esiste, ma vattene a Londra e non scassare i coglioni vai, a Londra ci sono stato anche io a suonare a fine dell'estate scorsa, è pieno di italiani così che vanno lì per fare musica ragazzi, facciamo perdere qua, meno male che adesso non c'è Nerone, Pino Scotto Bennato.